L'autotrapianto dei capelli è una metodica che ormai è entrata in maniera stabile nella cura delle alopece. Ovviamente bisogna distinguere l'autotrapianto dal trapianto di capelli artificiali che oggi è stato completamente rigettato dalla comunità scientifica perché gli effetti collaterali dei capelli artificiali sono talmente negativi che i pazienti che si sottoponevano a questa tecnica avevano poi dei grossi problemi clinici che potevano addirittura sfociare nella comparsa di vere e proprie reazioni di rigetto con comparsa poi di cicatrici e quindi inestetismi ben peggiori della alopecia che precedeva il trattamento. Oggi si utilizza soltanto l'autotrapianto e quindi è evidente che chi affronta questa tecnica deve avere un serbatoio personale da cui attingere, serbatoio che normalmente è localizzato nella zona occipitale del cuoio capelluto. Quindi l'autotrapianto lo possono fare persone che hanno ancora un buon numero di capelli a livello occipitale e soprattutto hanno una elasticità cutanea in quella sede che consente il prelievo dei follicoli piliferi. L'indicazione generale è per i gradamenti o per le alopecie ormai abbastanza conclamate che non possono più rispondere al trattamento medico o quello con i fattori di crescita. C'è stata un'evoluzione dal punto di vista del prelievo, nel senso che nei primi anni dell'autotrapianto veniva fatta un'incisione chirurgica per cui veniva prodotta una lunga cicatrice in zona occipitale che poi chiaramente rimaneva per tutta la vita, da cui puoi prelevare i follicoli piliferi. Oggi si preferisce invece fare dei microprelievi di piccole aree del cuoio capelluto che contengono un certo numero di follicoli e quindi non avere più questa lunga cicatrice ma avere delle piccolissime cicatrici rotondeggianti che danno un po' l'aspetto rarefato ai capelli ma che chiaramente essendo ancora abbastanza numerosi vengono coperte dai capelli che sono presenti. L'autotrapianto dura come tecnica parecchie ore perché c'è una primissima fase in cui al paziente vengono prelevati i follicoli, una fase molto lunga dove un'equipe si deve occupare di isolare i follicoli e di prepararli e una fase finale dove i follicoli isolati vengono impiantati dopo aver fatto delle micro ferite al cuoio capelluto, secondo chiaramente l'esigenza del paziente, da cui poi origineranno i capelli come dire nuovi. Ovviamente ci vorrà un tempo perché questo accada e normalmente per vedere il risultato di un autotrapianto è necessario aspettare 6-8 mesi. L'autotrapianto ovviamente va considerato come una metodica molto buona ma soprattutto per chi, come dicevo prima, ha un ampio diradamento o già ha una forma di alopecia conclamata. Il risultato si mantiene nel tempo perché i follicoli che io vado a spostare, vado a trapiantare da un'altra parte, essendo diversi da quelli che avevo in origine, durano molti anni e quindi l'autotrapianto dà un risultato che dura molti anni. È evidente però che se l'autotrapianto avviene in un'area dove io ho già dei capelli o ho ancora dei capelli, io devo continuare a curare quei miei capelli perché se perdessi quei capelli il mio autotrapianto sarebbe in parte vanificato. Quindi normalmente il paziente che fa l'autotrapianto fa anche il trattamento e utilizza l'autotrapianto come un completamento o come un miglioramento delle prestazioni delle proprie terapie e quindi chiaramente questo va spiegato, altrimenti i costi dell'autotrapianto vengono chiaramente un pochettino vanificati dalla mancata cura dei follicoli presenti. Grazie a tutti!